Musica Io sono Claudio, sono un socio della cooperativa Arvaia e siamo una community supported agriculture, cioè una comunità che supporta l'agricoltura. È sostanzialmente un'unione tra produttori e consumatori, ma diciamo in modo integrale, ovvero i consumatori e i produttori diventano una cosa sola. Siamo situati a due passi da Bologna, siamo praticamente a Casteldebole, siamo un gruppo di cittadini, siamo 270 al momento, in continua crescita, che sostengono i costi dell'agricoltura e si suddividono il raccolto. Si calcolano ogni anno, diciamo all'inizio dell'anno agricolo, i costi previsti appunto per produrre la verdura, la produzione mortaggi prevalentemente per tutti i soci, per tutto l'anno. E questo costo complessivo, questo budget di spesa, viene proposto in un'assemblea dove i soci si suddividono le spese in quote. Quindi ogni socio paga una quota annuale, a fronte della quale riceverà per tutto l'anno, settimanalmente, quindi in distribuzione settimanale, una parte di verdura. Una volta che si è coperto il budget, praticamente la verdura ha smesso di avere un prezzo. Cioè praticamente i soci vengono, ritirano la verdura, ma non devono più pagare in sostanza. Chiaramente condividono i rischi dell'impresa. Un'altra delle particolarità proprio rispetto a questa gestione è che le quote che appunto devono coprire questo budget sono concepite in maniera solidale, ovvero chi ha di più dia di più per permettere a chi ha di meno di dare di meno. Il senso del progetto di Arvaia è fondamentalmente costruito sul recupero del concetto di comunità. I nostri soci sono dei cittadini, delle persone che fanno altro nella vita e quindi praticamente portano dentro la cooperativa delle competenze che esulano dall'agricoltura, contribuiscono costantemente, insomma, ognuno mette a disposizione quello che sa e ricostruiscono quel tessuto sociale, insomma, anche solidale, proprio anche nel quotidiano, insomma, nel dare una mano a qualcuno se fa un trasloco piuttosto che mettere una competenza artigianale al servizio di qualcun altro. Questo significa che, insomma, le persone ricominciano a parlarsi, a incontrarsi, insomma, e questo per noi è il senso forse poi più importante di tutto il progetto. Lo slogan dell'Expo era molto impegnativo, nutriamo il pianeta. Io come messaggio direi che per fortuna il pianeta è ancora nutrito per il 70% dall'agricoltura contadina e l'auspicio è quello che l'agricoltura contadina possa continuare a esistere, a non essere schiacciata dall'agricoltura industriale e quindi il mio messaggio è popoli di tutto il mondo, unitevi e coltivate in maniera contadina.